Spiagge piene e sale vuote d'estate, le poltrone dei cinema baresi e in generale quelli italiani non vengono occupate con molta facilità poiché, come prevedibile, gli spettatori preferiscono frequentare il mare, i lidi e i parchi. Quest'anno però c'è stato un film che ha salvato la stagione, come piace dire, agli addetti ai lavori. Da giugno infatti le sale assistono al fenomeno Inside Out 2, un film d'animazione che nelle prime tre settimane ha portato al cinema milioni di italiani con un incasso record di oltre 40 milioni di euro, superando quelli che erano stati i grandi trionfatori del box office dell'estate scorsa, come Barbie e Oppenheimer. Proprio l'uscita di Inside Out 2 ha fatto sì che giugno 2024 fosse il mese di giugno più forte della storia del cinema italiano, segno che quando ci sono i film che interessano al pubblico la gente frequenta le sale anche nel periodo estate. Ne avevamo già avuto una prova l'anno scorso quando erano usciti moltissimi titoli da Mission Impossible a Barbie fino ad Oppenheimer ed era stata un'estate record. Per il resto, così come succede ogni anno, la stagione più calda dell'anno si presenta povera di nuovi titoli, complice quest'anno uno sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, terminato solo a settembre dello scorso anno. Ciò che manca è la presenza di titoli italiani durante il periodo estivo, tanto che l'iniziativa Cinema Revolution, che spettacolo l'estate è promossa dal Ministero della Cultura e che permette di vedere tutti i film italiani ed europei in programmazione nelle sale aderenti all'iniziativa a soli 3,50 euro, ha avuto poco successo. Il pubblico, che frequenta maggiormente le sale cinematografiche nel periodo estivo, è soprattutto quello dei giovani o delle famiglie che accompagnano i bambini. Cosa vedrete oggi? Immaculata. Che film vedrà? Gli indesiderabili. Quindi usufruirà dello sconto? 3,50 euro. Anche la mia amica.